Vediamo adesso un aspetto fondamentale dello studio del motore asincrono trifase, cioè le relazioni tra le potenze. Partiamo dall'alimentazione, abbiamo nel circuito equivalente monofase una tensione di fase di alimentazione che eroga una corrente I1 che viene assorbita dal motore. Quindi se partiamo da un semplice diagramma vettoriale in cui rappresentiamo la tensione di alimentazione con la corrente assorbita, l'angolo FI1 fra questa tensione e quella corrente rappresenta, come abbiamo visto nel diagramma vettoriale, il fattore di potenza del motore. Quindi la potenza che viene assorbita dal motore, considerando il fatto che abbiamo un circuito equivalente monofase, mentre il motore è trifase, sarà data da tre volte, quindi dal triplo, uno per ogni fase, la potenza assorbita dal circuito equivalente monofase, quindi sarà data da tre per v1 FI1 coseno di FI1, fattore di potenza del motore. Quindi abbiamo il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente, dove la I1 rappresenta la corrente di linea assorbita dal motore. Ricordatevi che nel circuito equivalente monofase le correnti assorbite sono quelle di linea, mentre abbiamo detto che la tensione v1 F rappresenta la tensione di fase, quindi la tensione stellata, che sarà quindi radice di tre volte più piccola della corrispondente tensione concatenata di alimentazione del motore. Quindi la v1 F rappresentata nel diagramma del circuito equivalente monofase è radice di tre volte più piccola della tensione concatenata di alimentazione del motore, che quindi è questa tensione concatenata. Se disegniamo quindi uno schemino che rappresenta le condizioni in cui stiamo alimentando il motore, abbiamo una cosa del genere, abbiamo le tre fasi di alimentazione, le tre linee, il motore asincrono trifase che rappresentiamo con il suo simbolo, quindi abbiamo le tre linee di alimentazione, la corrente I1, quella che vediamo nel circuito equivalente, coincide esattamente con la corrente di linea di ognuna delle fasi assorbita dal motore, che ricordiamo essere un carico equilibrato, quindi uguale per tutte le fasi, e la tensione concatenata V1 tra fase e fase, che è il radice di tre volte più grande della tensione di fase rappresentata nel circuito equivalente. Quindi riscriviamo la potenza assorbita dal motore utilizzando la tensione concatenata, quindi avremo tre volte la V1 diviso radice di tre per I1 per il fattore di potenza cos phi1, quindi qua abbiamo radice di tre al denominatore che possiamo semplificare col tre che moltiplica, quindi rimane una radice di tre, V1 I1 coseno di phi1, che è l'espressione tipica della potenza attiva assorbita da un carico trifase, che è alimentato con tensione concatenata V1, che assorbe la corrente di linea I1 e che presenta un fattore di potenza cos phi1, quindi questa è la potenza attiva di tipo elettrico, è una potenza elettrica assorbita dal motore. Anche qua mettiamo in evidenza questa relazione fondamentale, quindi la potenza attiva assorbita dal motore è una potenza elettrica data da questa espressione, che non ci sorprende nella sua forma. proseguiamo, quindi indichiamo la potenza attiva come la potenza entrante nel motore, la potenza assorbita dallo stesso. Quello che ci interessa in questa analisi è vedere la relazione che esiste con la potenza resa dal motore, quindi schematizziamo l'asse del motore rotante, sul quale possiamo immaginare applicato un carico meccanico, a questo carico meccanico il motore fornirà una certa potenza, che viene chiamata la potenza resa dal motore. La potenza resa è una potenza meccanica ed è appunto la potenza che il motore fornisce al carico meccanico per movimentarlo, quindi per porlo in generale in rotazione, oppure attraverso un sistema di ingranaggi, fargli compiere altri movimenti anche di tipo lineare. Quindi la potenza resa possiamo dire è quella che viene fornita al carico meccanico, quindi si tratta di una potenza di tipo meccanico. Evidenziamo anche questa definizione di potenza resa fondamentale, quindi riassumendo abbiamo che la potenza assorbita viene trasformata dal motore nella potenza resa, diciamo meglio l'energia assorbita di tipo elettrico, viene trasformata in una energia di tipo meccanico che noi rappresentiamo con le rispettive potenze, e quindi capiamo che il motore si comporta come un trasformatore di energia da due forme diverse di energia. Un'energia di tipo elettrico viene trasformata in un'energia di tipo meccanico. La macchina motore elettrico quindi presenterà un rendimento data dal rapporto come sempre si usa nel rendimento tra la potenza in uscita, quella resa, e la potenza in entrata, quella assorbita. E questa è la definizione tipica di rendimento per una qualunque macchina. In questo caso per il motore asincrono è il rapporto tra potenza resa e potenza assorbita così come definite sopra. Proseguiamo nell'analisi quindi per determinare il rendimento del motore. Allora per un motore elettrico i valori tipici del rendimento che otteniamo possono andare da circa 0,8 a circa 0,9 con margini più ampi per coprire anche tutta la gamma dei motori di tutte le potenze possiamo anche dire in generale da 0,75 a 0,95 per i motori di maggiore potenza. Però diciamo tipicamente ci possiamo aspettare valori di questo tipo per motori di medie e piccole dimensioni. Andiamo ad analizzare e a ricercare le perdite che si verificano nel motore sempre presenti in qualunque macchina elettrica non ideale. Allora le perdite partiamo dallo statore e quindi ricerchiamo tutte le potenze attive assorbite dalle componenti presenti nei circuiti equivalenti dello statore che rappresenteranno delle perdite che andiamo via via a individuare. Partiamo dalla resistenza in serie R1 che rappresenta la resistenza degli avvolgimenti dello statore su questa resistenza attraversata dalla corrente ovviamente si sviluppa un effetto Joule quindi una dissipazione di potenza e una trasformazione di energia in calore che rappresenta delle perdite perdite nel rame in questo caso ricordiamoci che il nostro circuito equivalente è monofase e quindi le perdite per effetto Joule che vediamo sul circuito equivalente date da R1 per I1 al quadrato diventeranno tenendo conto della presenza delle tre fasi come il triplo di quella sulla singola fase quindi avremo le perdite sull'avvolgimento statorico che indichiamo con PJ1 date dal prodotto di tre volte le perdite sulla singola fase quindi tre volte R1 I1 quadro queste sono le perdite nel rame al circuito statorico e sono sicuramente le prime perdite che individuiamo nel circuito continuando a ricercare perdite di tipo di potenza attiva nel circuito statorico abbiamo l'altro componente presente rappresentato dalla conduttanza G0 che rappresenta le perdite nel ferro quindi perdite per correnti parassite e per isteresi genericamente chiamate perdite nel ferro dovute appunto alla presenza di correnti parassite e alla presenza del fenomeno di isteresi nel cicli di magnetizzazione del materiale ferromagnetico chiamiamo PF queste perdite nel ferro sempre tenendo conto del fatto che il motore a tre fasi saranno date dal triplo di quelle che noi vediamo sul circuito equivalente quindi sarà data da tre volte la conduttanza G0 per la tensione ai capi della stessa quindi che è la tensione E1 tensione indotta sugli avvolgimenti statorici qua possiamo fare una piccola approssimazione considerando la E1 molto simile di valore efficace alla tensione di alimentazione V1F quindi approssimiamo per ottenere più agevolmente il risultato quindi abbiamo che al posto di E1 mettiamo V1F al quadrato poi ci ricordiamo che la tensione concatenata di alimentazione è radice di tre volte più grande della V1F quindi alla fine le perdite nel ferro saranno date dall'espressione 3G0 V1 quadro dove la V1 è la tensione concatenata di alimentazione del motore quindi queste queste perdite che abbiamo individuato rappresentano le perdite nel ferro e quindi anche queste le mettiamo in evidenza come importanti per proseguire nella ricerca delle perdite e quindi del rendimento del motore a questo punto andiamo avanti possiamo iniziare a a descrivere cioè a continuare alla ricerca di perdite passando a una tipologia di perdite che non è rappresentata nel circuito equivalente cioè che nel circuito equivalente non corrisponde a un componente queste sono chiamate in generale perdite addizionali perdite addizionali sono dovute a vari fattori non rappresentati nel circuito equivalente per convenzione le norme ci consentono di calcolarle approssimativamente a un valore pari al 5% della potenza assorbita dal motore nelle condizioni di funzionamento quindi le perdite addizionali dovute a vari motivi alla forma delle cave altre situazioni difficilmente rappresentabili le calcoliamo come pari al 5% della potenza assorbita quindi calcoliamo come 0,05 moltiplicato per la potenza assorbita dal motore e vengono considerate come perdite sviluppate dovute allo statore quindi complessivamente le perdite di statore sono date dalla somma di queste tre dalle perdite nel rame le PJ1 le perdite nel ferro PF e le perdite addizionali quindi anche queste le mettiamo in evidenza abbiamo tutte le perdite di statore individuate quindi a questo punto possiamo iniziare a rappresentare il flusso di potenza indicando partendo dalla potenza assorbita dal motore potenza entrante andando via via a diminuire la potenza residua sottraendo alla potenza assorbita le varie perdite che incontriamo quindi rappresentiamo graficamente quello che sto dicendo quindi partiamo dalla potenza assorbita e da questa togliamo le perdite nel negli avvolgimenti dello statore le PJ1 con un flusso uscente sono tutte perdite che si trasformano in calore quindi disegniamo anche le perdite dovute al al ferro correnti parassite e isteresi e indichiamo anche come potenza persa le perdite addizionali quindi sottratta dalla potenza attiva queste tre componenti abbiamo una visione di quello che succede nello statore quindi qua possiamo indicare una separazione nel nostro diagramma fra lo statore e il rotore la potenza residua da quella assorbita sottraendogli le perdite rappresenta quella potenza che viene trasmessa tra dallo statore al rotore quindi è quella potenza che viene trasmessa attraverso l'accoppiamento elettromagnetico fra gli avvolgimenti statorici e rottorici questa potenza appunto viene chiamata potenza trasmessa la possiamo indicare col simbolo Pt ed è quella dovuta appunto al trasferimento di energia operata attraverso l'accoppiamento elettromagnetico tra gli avvolgimenti di statore e di rotore quindi quella diciamo in qualche modo che si sviluppa nel trasformatore ideale centrale passiamo adesso al rotore continuiamo a cercare perdite di tipo attivo e vediamo che nel circuito rottorico abbiamo due componenti resistive la R2 è la R2 per 1 meno S fratto S che in totale sappiamo che la loro somma è uguale a R2 fratto S questa questa somma rappresenta nel circuito equivalente sia la resistenza degli avvolgimenti rottorici sia la presenza del carico meccanico quindi la potenza trasmessa che è una potenza attiva che viene trasmessa al rotore non può che coincidere con la potenza che viene assorbita da questa somma di due resistenze quindi della R2 fratto S non avendo altri componenti che assorbono potenza attiva nel circuito di rotore quindi tenendo conto sempre che siamo in trifase abbiamo tre volte la potenza attiva assorbita quindi abbiamo tre volte il prodotto R2 fratto S per i due quadro quindi la potenza attiva assorbita dal rotore e questa deve coincidere ovviamente con la potenza trasmessa dallo statore questa potenza è composta diciamo di due parti una parte che è quella anzi in realtà di tre come vedremo una parte viene quella dovuta alle perdite nel rame di rotore quindi alla resistenza degli avvolgimenti R2 quindi sulla R2 abbiamo anche in questo caso un effetto Joule sulla resistenza degli avvolgimenti con le relative perdite se fossimo in un motore come spesso accade a gabbia di scogliato lo sarebbe la resistenza equivalente del circuito rottorico quindi vediamo le perdite complessive nel rotore abbiamo le perdite per effetto Joule sugli avvolgimenti rottorici che indichiamo come PJ2 che tenendo conto delle tre fasi sono date dal triplo della potenza dissipata dalla resistenza degli avvolgimenti la R2 quindi R3 volte R2 I2 al quadrato adesso se confrontiamo la PJ2 con la potenza trasmessa le espressioni vediamo che la potenza trasmessa ha al numeratore la stessa espressione della PJ2 ed è divisa per S quindi la potenza trasmessa è PJ2 diviso S e quindi la PJ2 sarà uguale a S per la potenza trasmessa PT relazione che ci consentirà in molti casi di ricavare la PJ2 dalla conoscenza della potenza trasmessa o viceversa questa perdita quindi possiamo continuarla a rappresentare sul nostro diagramma delle potenze perse e della potenza che va verso la potenza resa ulteriore perdita nel rotore è dovuta agli attriti meccanici dovute alla rotazione del rotore stesso questo tipo di perdite non rappresentate nel circuito equivalente o perlomeno possiamo pensarle all'interno della presenza nel circuito equivalente del carico meccanico della resistenza R2 fratto S sono complessivamente indicate come le potenze per attrito e ventilazione quindi sono perdite sono le perdite per attrito e ventilazione fondamentalmente attrito nei cuscinetti del del motore è ventilazione per attrito con l'aria durante la rotazione del rotore stesso le perdite per attrito e ventilazione quindi sono un'ulteriore perdita che noi possiamo rappresentare in questo diagramma e a questo punto abbiamo terminato con l'individuazione di tutte le perdite quindi a partire dalla potenza assorbita dal motore sottraendogli via via le perdite nello statore arriviamo a determinare la potenza trasmessa al rotore alla quale sottraiamo le perdite nel rame per attrito e ventilazione nel rotore stesso per arrivare alla potenza resa quindi in definitiva abbiamo che la potenza resa non sarà altro che la potenza attiva sottratte tutte le perdite che possiamo indicare con P con P dove abbiamo quindi P con P uguale la somma delle perdite che abbiamo individuato la PGI 1 più la PF più le perdite addizionali più la PGI 2 più le perdite per attrito e ventilazione quindi questa sono tutte le potenze perse nel motore quindi a questo punto possiamo scrivere la relazione col rendimento eta come essendo il rapporto P con R fratto PA come abbiamo definito prima lo possiamo esprimere come PA meno le potenze perse fratto PA stessa e questa è la relazione fondamentale che ci consentirà di determinare il rendimento del motore asincrono trifase asincrono asincrono